Ciao! Allora, oggi un altro video come vedete adesso sono truccata se non vedete un fico aspettate vediamo un po' se così riuscite a vedere no, vabbè, non vedete niente comunque altro video perché inaspettatamente oggi pomeriggio no, così è arrivata anche cambre allora, ho già imballato tutto gli unici omaggi che c'erano in questo caso erano dei cioccolatini a forma di Babbo Natale e spero che voi non vi offendiate se io questi cioccolatini li do a mia sorella che ha quasi 4 anni e allora vi faccio vedere cosa ho preso io io ho preso due jumbo ho preso il nero e Black Bean 601 vabbè, non lo vedete e il 608 Cottage Chic che ha questo colore qua allora, vi faccio un po' di sbucce il Cottage Cheese l'ho già usato con questo trucco e mi piace in questo trucco ho usato un blu della palette di Zoeva all'esterno un oro quel famoso oro della palette 96 di Zoeva e all'interno questo Cottage Cheese che ho usato anche come base un po' di matita nera sotto volevo capire se riuscivate a vedere no, non riuscito a vedere vediamo se sento la luce forse così un po' è riuscito a vedere vedete ho messo anche sotto un po' di base per illuminare e poi ho usato un rossetto di cambrè che poi vi farò vedere allora, vi faccio lì il swatch sono, pensavo fossero più morbide si sfumano molto bene però sono abbastanza regione non sono i classici ma tutti tutti super morbidi che poi non funzionano comunque il black è veramente molto molto black questo, chiaro, il Cottage Cheese e questo è il black allora, adesso gli sfumo e vi faccio vedere e sono belli poi ho preso una base vera e propria la Shadow Base del NYX e questa è la Pearl che più o meno è analoga al Cottage Cheese è proprio perlata bianco perlato adesso ve la swatcho vedete, più o meno è uguale al Cottage Cheese poi ho preso un ombretto e ho preso questo qua color carne che è il platinum pink ed è quello che ho messo come highlighter è opaco mi piace molto molto morbido vellutato è questo qua vedete che si vede o non si vede e poi ho preso tre rossetti della collezione della collezione round lipstick che sono quello che ho già assura che mi piace veramente un sacco è il spellbound prego aspettate che ho un po' di luce è lo spellbound numero 644 è questo qua poi è quello che ho su con un po' di plus ve lo swatcho va bene non lo vedrete mai così ha un rosso corallo bellissimo poi ho preso un altro rosso bellissimo che è fam che questo è un rosso aranciato fantastico è fantastico lo so che a voi sembra rosso ma è verità aranciato e poi ho preso questo qua che è l'armonia armonica che ha un rosa abbastanza shimmeroso credo che ho perso fatto invece è abbastanza cioè sulle labbra si vede molto su di me che è questo qua questo qua e niente questi sono i miei acquisti e i rossetti mi piacciono molto sono forse la parte che mi piace di più la vostra roba è già tutta pronta vediamoci la manina quindi i pacchi che avevano ad esempio elf cambrè verranno spediti mercoledì non posso spedirli ovviamente domani e niente ragazze vi mando un bacio ciao